Allora, regia, siamo pronti per mandare un pezzo di questo brano così provano anche il playback? In vent'anni di là di tante, mi è cresciuto un po' pure la panza ma da oggi farò un po' di dieta con il lavano e lì ci corre la pieta Tutto il giorno con i carabinieri mentre fino a ieri c'avevo i picciotti e mi puntano contro col dito e mi fanno lo sconto se sono vendito Ma io sono un perfetto mafioso, sotto gli ambiti sono meloso e poi vado a trovare Puschetta, sentiamo miglietta e pigliamo caffè Oh che bello caffè, a Repibbia lo sanno fa, caricette che giura, tre otto compagno picciotto c'ha da papà Basta, basta regia, grazie, questa è una prova Paolo, ti scatenerai dopo, Paolo Il santo cielo, non lo so Bravi eh, bravi, bravi ragazzi, lasciatemi, lasciatemi pure il curricula eh Curricul, curricula, yam, 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 curricul, curricula Ehi Paolo Ehi Alberto Ciao Sono il time Bene, bene, sono contento di stare qui in questi studi Senti ma questi ragazzi li avete presi perché sono raccomandati oppure li state veramente prendendo per il curriculum? Ma non lo so, si, si, hanno un bel curriculum Hanno proprio un gran bel curriculum Naturalmente Paolo, se questi diventano famosi l'ho scoperti io eh E se non diventano famosi? E chi è Ush?